musica la danza di noi che fanno 3 passi noi favamo non lo abbiamo fatto no, no, va un'altra modo noi abbiamo parlato la testa quindi l'hanno passato all'interno che ho mai visto la calcola che vuoi via 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 di qua ah poi aspetta qua c'è tipo un pezzo che si alterna adesso non mi ricordo come però c'è un pezzo che si alterna e si fa tipo 1, 2 ah è bene, si la leggella come se mi per carambi non è tubo che invece e noi chiederego mi voglio ficare finito avvita